Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul canale di Rision, bentornati in un nuovo video, io sono lo sconosciuto e oggi sono qua per parlarvi della cerimonia degli Oscar che si è svolta appunto nella notte tra il 4 e il 5 di marzo, per quanto riguarda ovviamente l'Italia. Io sono riuscito a seguire per fortuna tutta la cerimonia anche se mi sono addormentato un po' di volte, sono riuscito anche a fare una pre-live e una live solo con commenti senza audio e video per la prima orietta di cerimonia, poi ovviamente ho dovuto chiudere per problemi tecnici e purtroppo quest'anno quindi insomma non sono riuscito a seguire gli Oscar direttamente insieme a voi. Ma vabbè, quindi adesso vi voglio parlare un po' della cerimonia, ho già parlato delle nomination, ho già fatto un video riguardo a quelle, ho già fatto il video per quanto riguarda il Totò Oscar, infatti in questo video qua vedremo quante vittorie ho azzeccato, vi parlerò appunto della cerimonia in sé e andremo a vedere appunto tutte le vittorie. Come sapete questo è un video un po' più così amichevole, meno tagli, meno diciamo professionalità, tra virgolette. È stata una notte interessante, ci sono state anche le elezioni, la cerimonia è finita anche abbastanza tardi e più o meno l'ho vista tutta anche se devo dire che sinceramente non mi è piaciuta poi così tanto. L'ho trovata abbastanza noiosa, Jimmy Kimmel insomma bravo a condurre ma non dà quel di più, continuo a preferire i Golden Globe che sono molto più divertenti perché c'è più comicità eccetera eccetera. In particolare ho trovato gli Oscar di quest'anno abbastanza pesanti, ancora di più per il discorso appunto del politically correct, veramente hanno un po' esagerato facendo sempre notare che in ogni categoria erano candidate tot donne, erano candidate tot persone di colore, tot stranieri. E la cosa a lungo andare mi ha dato fastidio soprattutto perché su questo argomento si dilungavano tanto, ritornandoci sempre nella stessa maniera e secondo me siamo andati un po' oltre il politically correct, capisco che questi premi sono un po' la facciata di Hollywood però sinceramente come cerimonia mi ha deluso anche perché c'è stata poca comicità, è stata proprio una cerimonia piena anche di quei discorsi, ringraziamenti abbastanza retorici eccetera eccetera. E' stata proprio una cerimonia e non uno spettacolo e purtroppo questo mi ha dato parecchio fastidio perché non mi sono divertito sinceramente. In più per quanto riguarda le varie candidature diciamo che il tot Oscar è andato anche relativamente bene, purtroppo però non sono rimasto soddisfatto di molte candidature, nel senso più ampiamente comunque soddisfazioni ne ho avute perché i film, i miei film preferiti hanno comunque ricevuto qualche premio ma più che altro non hanno ricevuto i premi che io avrei voluto per quei film, hanno ricevuto altri premi e poi comunque ci sono stati anche dei film che proprio non ne hanno ricevuti e questo mi ha deluso. Comunque ve ne parlerò adesso, prendiamo il telefono e parliamone, vi leggo tutte le nomination e i relativi vincitori, dovrebbe esserci anche la grafica che ho preparato, un rosso dovreste vedere il vincitore della categoria. Iniziamo. Quindi miglior film, La forma dell'acqua, Chiamami col tuo nome, Dunkirk, Il filo nascosto, Lady Bird, L'ora più buia, The Post, Scappa Get Out e Tre manifesti a Abby Missouri. Ha vinto La forma dell'acqua come appunto avevo previsto. Mi sembra che come preferenza vi avevo detto Chiamami col tuo nome perché appunto è praticamente posso dire il mio film preferito, degli Oscar, sono rimasto comunque soddisfatto, anche se la forma dell'acqua appunto poi non mi è piaciuto così tanto, perché quando ho fatto il Totò Oscar ancora non l'avevo vista. Diciamo che sono rimasto soddisfatto nel senso che mi aspettavo quella vittoria ed è arrivata e sono contento per Del Toro. Avrei preferito Chiamami col tuo nome ma sapevo che molto probabilmente non avrebbe vinto. Quindi diciamo miglior film ci sta, ci sta anche se a me non è piaciuta, riconosco che la forma, cioè che non è piaciuta tantissimo, riconosco che la forma dell'acqua è un ottimo film e soprattutto un ottimo film per questi Oscar perché riesce certo a essere politically correct eccetera eccetera ma come solo Del Toro sa fare, ovvero senza essere forzato. E comunque è un bel film per l'amore del cielo. Mio regia è Guglielmo Del Toro per la forma dell'acqua, Paul Thomas Anderson in filo nascosto, Greta Gerwig, Lady Bird, Christopher Nolan Dunkirk, Jordan Peele, Scappa Get Out. Ha vinto Guglielmo Del Toro appunto come avevo previsto e come preferenza, non mi ricordo cosa vi avevo detto, forse vi avevo detto Nolan come preferenza, sì mi sembra di avervi detto Nolan. Sono contento comunque che abbia vinto Del Toro perché è un regista che io apprezzo tanto, non ha apprezzato molto la forma dell'acqua ma comunque solo per diciamo l'affezione che ho verso l'artista sono comunque contento e soddisfatto assolutamente. E se lo merita comunque perché di tutti i vari registi forse quella della forma dell'acqua è la migliore se non una delle migliori insieme a Dunkirk. Però sai, magari Del Toro è riuscito a mettere un po' più di autorialità forse rispetto a Nolan nel film, paragonando i livelli di autorialità e quindi ci sta questa vittoria. Mio oratore protagonista, Gary Oldman, L'ora più buia, Timothee Chalamet, Chiamami col tuo nome, Danny D. Lewis, il filo nascosto, Daniel Caluia, Scappa Get Out, Denzel Washington, Roma J. Hisrake Hesk. Vabbè, come si pronuncia. Ha vinto Gary Oldman per l'ora più buia, come mi aspettavo e vi avevo detto anche che comunque era la mia preferenza insieme a Timothee Chalamet. Capisco che lui non l'ha fatto vincere perché è troppo giovane. Quindi contentissimo per Gary Oldman, un attore che io adoro e vittoria meritata perché ha fatto veramente un lavoro eccelso con il suo Winston Churchill. Migliore attrice protagonista, Frances McDormand, Tre Manifeste e Bim Missuri, Sally Hawkins, La Forma dell'Acqua, Margot Robbie, Aitonia, Sorcery Ronan, Lady Bird, Mellie Streep, The Post. Ha vinto, come mi aspettavo, la McDormand per appunto Tre Manifeste e Bim Missuri. E vi avevo detto anche che per me andava bene perché comunque anche se non ho apprezzato Tre Manifesti quanto l'hanno apprezzato altre persone, comunque lei è stata veramente brava e se lo merita assolutamente. Ora non mi ricordo già più le altre candidature, comunque non avevo una preferenza precisa, quindi la McDormand per me andava assolutamente bene. Quindi vittoria secondo me sensata e meritata. Miglior attore non protagonista, Sam Rockwell, Tre Manifeste e Bim Missuri, William Dafoe, The Florida Project, Woody Harleston, Tre Manifeste e Bim Missuri, Richard Jenkins, La Forma dell'Acqua, Christopher Plummer, tutti i soldi del mondo. E anche questa l'ho azzeccata, Sam Rockwell e sono contentissimo perché lui è uno dei miei attori preferiti e ha fatto una performance veramente sensazionale nel Tre Manifeste e Bim Missuri. Contentissimo e vittoria assolutamente meritato. Un personaggio difficile, lui l'ha reso molto bene ed è l'unico che mi ha fatto un po' sorridere quando ha ringraziato, ha fatto tutti i vari ringraziamenti. Quindi, assolutamente, sono soddisfatto. Miglior attrice non protagonista, Alison Janney, Itonia, Mary J. Blige, Madman, Leslie Manville, Filo Nascosto, Laurie Metcalf, Lady Bird, Octave Spencer, La Forma dell'Acqua. Alison Janney ha vinto per Itonia, come avevo previsto anche questo. Sono contento, nient'altro da dire, non avevo particolari preferenze in questa categoria. Ci poteva stare, ad esempio, anche Laurie Metcalf per Lady Bird, Leslie Manville per Il Filo Nascosto, però, se devo dire la verità, Alison Janney forse è quella che se lo meritava di più, assolutamente. Miglior sceneggiatura originale, Jordan Peele, Scappa Get Out, Guglielmo del Toro, La Forma dell'Acqua, Greta Gerwig, Lady Bird, The Big Sick e Marty May Donner, Tre Manifeste e Bim Missuri. Ha vinto Jordan Peele a sorpresa per Scappa Get Out. Io avevo detto, se non sbaglio, del Toro e ho sbagliato, cioè, La Forma dell'Acqua, ho sbagliato e da un lato sono contento perché di tutti questi film, secondo me, poteva vincere anche Tre Manifeste e Bim Missuri. Però avevo detto La Forma dell'Acqua perché forse come storia, come sceneggiatura è un po' meglio. Invece, sorpresa, Jordan Peele e anche se magari è una vittoria politically correct, questa non mi ha dato fastidio perché è sensata. Perché comunque, se ci pensate, la storia più peculiare tra queste è proprio quella di Jordan Peele ed è scritta molto bene perché lui riesce a giocare con il tema appunto del razzismo, eccetera, eccetera, in un horror in maniera veramente perfetta. Quindi, assolutamente, vittoria meritata. Sono contento e non avevo particolari preferenze, devo dire, in questa categoria, però sono rimasto comunque soddisfatto. Sono quasi contento di aver sbagliato. Mio sceneggiatura non originale, James Ivory, chiamami col tuo nome, Scott Frank, James Mangold per Logan, The Disaster Artist, Madman e The Molly's Game. Qua ero combattuto perché volevo sia Logan che The Disaster Artist, ha visto, ha vinto, ovviamente, anche l'altro mio preferito, forse più di tutti, James Ivory per chiamami col tuo nome. Contentissimo che, chiamami col tuo nome, abbia vinto almeno questo premio. Non mi sembra abbia vinto nient'altro, purtroppo. E tra parentesi di un film quasi tutto italiano, ha vinto non un italiano. Fa lo stesso, l'importante è che abbiano premiato il film e ci sta, perché la storia di chiamami col tuo nome è fantastica. Una sceneggiatura non originale, veramente bellissima, che mi ha fatto innamorare sin dal primo momento. Quindi, sono contento per questo premio, un po' meno per altri. Speravo che ricevesse più vittorie, chiamami col tuo nome. Comunque, ho anche, ovviamente, azzeccato la predizione, avevo pensato, chiamami col tuo nome. Mio film straniero, una donna fantastica, corpo e anima, l'insulto, loveless, The Square. Avevo detto The Square per sentito dire. Non so perché mi sono buttato nel pronosticare questa categoria. Ha vinto una donna fantastica, ci è fatto completamente. Vabbè, non vi dico niente perché non ho visto questi film. Miglior film d'animazione, Coco, Baby Boss, Brad Winner, Ferdinand, Loving Vincent. Ha vinto Coco, come mi aspettavo, e sono anche contento, è l'unico che ho visto, ma secondo me è veramente un ottimo film. Allora, per adesso, in questi dieci premi non tecnici, ne ho azzeccati otto su dieci e finora è andato tutto bene. Il disastro è avvenuto poi per le categorie tecniche, dove non ho azzeccato quasi niente, ho fatto tre su dieci. E adesso vi vado, ve le vado a leggere e a commentare. Miglior fotografia, Blade Runner 2049, L'ora più buia, Dunkirk, Madman e The Shape of Water. Ha vinto Roger E. Dickens per Blade Runner 2049. Questa l'ho azzeccata e sono contento perché la fotografia di Blade Runner, per quanto, ripeto, non mi sia piaciuto come più o meno la maggior parte delle persone, un'ottima fotografia, più di vari Dunkirk eccetera eccetera. Secondo me si meritava assolutamente questa vittoria. Il mio remontaggio, Dunkirk, Tre Manifeste, Bimisuri, Baby Driver, Aitonia, La Forma dell'Acqua. Avevo detto Dunkirk e ha vinto Dunkirk, che ha poi da qua in poi spopolato per quanto riguarda i premi tecnici. Ci sta, perché io avevo detto che il montaggio di Dunkirk doveva vincere proprio perché era un punto forte del film. Insieme alla regia era veramente uno dei capisaldi di questa bellissima, secondo me, pellicola. Contento di questa vittoria e contento di aver azzeccato. Il mio scenografia, La Forma dell'Acqua, Dunkirk, Blade Runner 2049, La Bella e la Bestia, l'ora più buia. Questa è l'ultima che ho azzeccato. Avevo detto La Forma dell'Acqua, ha vinto La Forma dell'Acqua e ci sta. Sono contento perché comunque la scenografia di quel film è veramente eccezionale. Ambientazioni, eccetera, eccetera, sono costruite molto, molto bene e sono molto suggestive in pieno stile di Del Toro. Da qua in poi non ne ho azzeccata neanche una. La Forma dell'Acqua, Tre Manifeste, Filona Scorso, Star Wars, Ultimi Gie di Dunkirk. Ha vinto Alexander Desplat per la colonna sonora. Ci sta, però sono molto dispiaciuto perché io volevo che vincesse Dunkirk, Hans Zimmer. Ranz Zimmer, come vi ho detto, il mio compositore preferito. Volevo una vittoria per lui perché secondo me se la merita anche per le colonne sonore che ha fatto prima e non ha vinto. Secondo me, cioè, se devo dire la verità, mi è piaciuta molto di più la colonna sonora di Dunkirk. Quella della Forma dell'Acqua mi è piaciuta ma fino ad un certo punto. Quindi questo premio mi ha comunque deluso molto e secondo me non è poi così giusto. Ovviamente, pareri, opinioni. C'ho molto da mare in bocca. Speravo vincesse Hans Zimmer. Questa proprio mi è rimasta lì e in più non ho azzeccato, quindi ancora peggio. Mior canzone, Remember Me Coco, Mighty River Madman, Misery Love, Chiamami Coltonove, Stand Up For Something. Marshall, This Is Me, The Greatest Showman. Allora, secondo me doveva vincere assolutamente. This Is Me ha vinto quella di Coco. Bella, ma secondo me non ha i livelli di potenza di quella di The Greatest Showman con This Is Me. Secondo me è una vittoria assolutamente non meritata. Ho sbagliato la mia predizione e mi è rimasto molto l'amaro in bocca. Coco, bella, Remember Me. Però This Is Me ha una potenza, secondo me, devastante. È una qualità proprio musicale, artistica. È un impegno musicale, artistico. Più elevato di Coco, di quella di Coco. Comunque non è che sono totalmente deluso perché va bene, ma assolutamente secondo me This Is Me meritava cento volte di più. Una canzone proprio che ti gasa e ti lascia dentro mille emozioni. Giori effetti speciali, Blade Runner, Il Pianeta delle Scimmie, Star Wars, Kong Skull Island, Guardian of the Galaxy Vol. 2. Io volevo vincerse The War. Ha vinto Blade Runner, ci può stare, però secondo me se non meritava di più The War. Devo dirvi la verità. E ho anche sbagliato la predizione, purtroppo. Da qua in poi l'ho sbagliato tutto, non ve lo dico neanche più. E The War secondo me ci stava di più per l'impegno nell'utilizzo di questo motion capture che non riesco mai a pronunciare. E Blade Runner va bene, beh, gli effetti speciali, ma secondo me si meritava di più The War proprio per l'impegno e per la difficoltà. Comunque va bene anche Blade Runner. Un'altra categoria dove sono rimasto un po' deluso. Queste tecniche mi hanno deluso abbastanza. Mi orsonoro, Dunkirk, Blade Runner, La Forma dell'Acqua, Star Wars, gli ultimi geni, il baby driver, il genio della fuga. Cosa avevo messo? Blade Runner invece ha vinto Dunkirk. E anche qua, va bene perché comunque anche Dunkirk mi è piaciuto tanto. Avevo messo Blade Runner più che altro per il mio sentore, ma come preferenza più o meno alla pariera, no? Quindi va benissimo che abbia vinto Dunkirk, ci sta. Comunque ha un ottimo sonoro, ci sembra proprio di essere in guerra. È sicuramente un punto forte del film. Il miglior montaggio sonoro, Dunkirk, Blade Runner, La Forma dell'Acqua, Baby Driver, Star Wars, gli ultimi geni. Qua, secondo me, doveva vincere per forza, se non anche per il miglior sonoro, anche se secondo me doveva vincere più questa categoria, Baby Driver. Non gliel'hanno dato e ha vinto di nuovo, se non sbaglio, aspettate che non mi ricordo più, Dunkirk. Sì, e secondo me non è giusto, perché Baby Driver è un ottimo film che non è stato premiato per niente, ingiustamente. Perché se lo meritava, almeno questo premio, è tutto un film a ritmo di musica, anche i spari di pistola e i rumori dei caricatori. Non so perché non gli hanno dato questo premio. Veramente secondo me è ingiusto. Va bene che Dunkirk è ottimo da quel punto di vista, ma fino ad un certo punto, cioè fino ad un certo punto, secondo me in questa categoria in particolare, meritava molto di più Baby Driver. Quindi anche questa categoria mi ha lasciato molto la mare in bocca. Migliori costumi, il filo nascosto, Victoria e Abdul, la bella e la bestia, allora più buia, la forma dell'acqua. Non mi ricordo cosa avevo detto, la bella e la bestia, no, avevo detto sì, la bella e la bestia, invece ha vinto il filo nascosto, che ho recuperato poi dopo. Ci può stare, anche se io ho un po' di riserve per il filo nascosto, poi ve le parlerò, perché molti lo considerano quasi un capolavoro. Io un pochettino sotto, e non perché è un film molto particolare, ma... Per altri motivi, comunque poi ne parlerò, non è questa la sede. Va bene, ci sta, comunque non è che è una categoria così attesa. Va bene, perché comunque i costumi sono molto importanti, è il tema principale proprio la moda. Quindi ci sta, ci può stare, anche se personalmente ho apprezzato più quelli della bella e la bestia, ma va bene così. Infine, miglior trucco a conciatura, l'ora più buia, l'ora più buia, Victoria e Abdul, Wonder. Io avevo detto Victoria e Abdul, invece ha vinto l'ora più buia, ci sta, perché comunque, come hanno trasformato Gary Holman, è veramente una cosa eccezionale. Anche qua non avevo particolari aspettative, sono contento così. Quindi questa parte tecnica completamente rovinosa, 3 su 10. Quindi in totale, facendo un po' il conto finale, ho azzeccato 11 previsioni su 18. Non sono poi così soddisfatto, speravo di fare di più, perché purtroppo in quelle tecniche ho ceffato completamente. Mentre invece in quelle, diciamo, non tecniche sono rimasto, cioè, ne sono uscito meglio. E per quanto riguarda la mia soddisfazione, vale la stessa cosa. Per quanto riguarda le candidature, diciamo, non tecniche, sono rimasto soddisfatto a livello personale, di gusto personale. Mentre invece in quelle tecniche sono rimasto un po' più, con l'amaro in bocca. Comunque 11 su 18 va bene, ne ho azzeccate più della metà. Spero di far meglio il prossimo anno, tanto era un giochino per vedere. Fatemi sapere voi quante ne avete azzeccate, ditemi, non so se avete fatto 10 previsioni, ditemi tot su 10, eccetera, eccetera. Arriverà poi la live anche con RSA97 e la nostra collaboratoria di Chester, dove vedremo, perché hanno fatto anche loro il Totò Oscar con me, in un'altra live a parte, vedremo chi avrà vinto e quante ne avremo azzeccate. Non ve lo voglio spoilerare adesso. Prima di finire vi voglio giusto vedere un po' il resoconto. Ovviamente ho saltato i vari cortometraggi, documentari, eccetera, eccetera. Perché? La Forma dell'Acqua ha vinto 4 premi su 13 candidature. E ci sta, pensavo di più e sono contento perché appunto, come sapete, non l'ho apprezzata più di tanto. Dunkirk ne ha vinte 3 su 8 e sono contento perché mi aspettavo di vincesse molte meno. 3 manifesti, diciamo, ha deluse le aspettative soltanto con 2. Pensavo qualcosa di più, così come l'ora più buia, ma già l'ora più buia me lo aspetto, così come Blade Runner che ne ha presse 2. Anche lì non mi aspettavo così tante. Coco addirittura 2. E poi, vabbè, tutti gli altri sono un po' deluso, appunto per Chiamami Coltonome che ne ha presa soltanto una. E non è stata premiata tanto l'Italianità. Secondo me comunque rimane il migliore film di questi Oscar. Doveva vincere secondo me il miglior film per quanto riguarda il mio gusto personale. Poi altri, vabbè, Baby Driver sono delusissimo che non abbia vinto niente, anche di Disaster Artist, ma vabbè, ci sta. Logan purtroppo non ha vinto e vabbè, pace. Niente, questo è quello che pensavo in generale, un po' dei risultati finali, che sono stati comunque molto equi. Sono degli Oscar molto equi e abbastanza inaspettati e comunque la cosa ci sta. Diciamo che dal punto di vista dello spettacolo relativo solo ai premi, anche se sono rimasto deluso personalmente, non sono rimasto deluso proprio da lo spettacolo in sé. Comunque ci sono stati colpi di scena, certe vittorie imprevedibili anche abbastanza meritate. Diciamo che mi ha deluso in generale la cerimonia, proprio non mi è piaciuta, non mi è intrattenuto. Mi sono addormentato parecchie volte tenendomi solo in sottofondo. Mi svegliavo quando sentivo, eh, ha vinto tizio Caio, eccetera, eccetera. Quindi questo era quello che pensavo relativamente agli Oscar, i novantesimi Oscar tra parentesi, quindi secondo me neanche celebrati poi così tanto bene, di questo 2018. Ci vediamo in un prossimo video oppure il prossimo anno. Spero di riuscire magari a fare la live in maniera più strutturata. Comunque sono riuscito a seguirli bene, eh, quest'anno solo per quanto riguarda i video sul canale, non per quanto riguarda le live, sono riuscito a seguirli molto bene e sono soddisfatto. Fatemi sapere la vostra nei commenti, vi hanno soddisfatto questi Oscar, le previsioni che avevate fatto, le vostre preferenze, eccetera, eccetera. Scrivete nei commenti, scrivetevi ai nostri social, in particolare al gruppo Telegram. Ci vediamo in un prossimo appuntamento. Ciao a tutti! Grazie! 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 Grazie!